Benvenuti ragazzi in questo video Io sono William e oggi Giocheremo a The Door Allora Che no Che no lo conoscesse Un gioco Bisogna fare questi Tipo Indovinelli E aprire queste porte Allora Ah ok l'ha trovato Come ha trovato Almeno Forse ho comprato Perché è rarissimo trovare la torta Questo gioco Perché dura un casino Dura un casino Vabbè Siamo alla porta 6 E adesso E adesso Ah e Volevo ricordarvi Volevo ricordarvi che Il gioco è horror E Volevo anche dirvi che Quando si illuminano le luci Bisogna Mettersi dentro Una 3 Arma 2 Perché passa sto coso Allora Mi dispiace Ripse di Bubba Siamo gli impostori Quindi apriamo l'evento Abbiamo Perlo Perfetto Sii Questo coso non bisogna portarlo Una vera bestia Ok bisogna trovare la leva per aprire la porta trovata perfetto non ve lo posso manco far vedere perché se lo guardo mi fa male mi mi ha tolto un sacco di vita non c'è nessuno allora perché siete venuti qui ragazzi abbiamo trovato la porta la chiave ok ragazzi siamo nel livello 6 allora ok abbiamo scampato la morte ok vediamo cosa togliamo un cerottino perfetto mi ha curato ok ok mi è caduto un armadio allora abbiamo trovato l'altro accendino ok passiamo qua sotto ok sembra una chiesa però non è una chiesa ne sono abbastanza sicuro che non è una chiesa ok mi non sento nessuno ah no si che lo sento goodbye mi dispiace ma lei è morta ok adesso questa casa casa virgolette perché non è una casa è un inferno c'è avevo visto in video che bisogna arrivare a cento porte per finire sto gioco bene ovviamente non ci arriveremo facciamo così se muoio il video finisce ok ho la vita un po' bassa vedrai è alta più o meno spero di non morire ok abbiamo trovato un altro cerottino ok adesso abbiamo la vita al completo credo senti va ho capito usiamo questa è trovata la chiave è trovata la chiave ok mi mi cosa succede poi perché ci sono degli occhi che ci fissano che ci fissano ok porta 32 ok benissimo adesso andiamo alla porta cosa cosa sta non è chi no K Vabbè Comunque Avevo detto che se morivo il video finisce Quindi ciao ragazzi